Sono Mirko, Mirko Cavallotto, in Arte L'Oste, un ragazzo di 33 anni da Caltanissetta in Sicilia ed è da 20 anni che faccio graffiti. Il progetto nasce da un discorso fatto con Fineco. Loro mi hanno suggerito una parola che poteva essere quella dell'innovazione e quindi ho cercato di formulare attraverso un pensiero questo passaggio, questa innovazione. Araldo è un messaggero, è un messaggero ma è anche promotore di un concetto ideale, un promotore di un messaggio ideale dato al popolo. L'ho simboleggiato con un uccellino, un uccellino in stile still punk, appunto per sottolineare ancora di più quello che è il tweet, quello che è proprio il messaggio che vola da persona a persona. Innovazione per me significa qualunque cosa viene fatta adesso che prima non c'era, qualunque cosa che ti serve e diventa necessaria perché c'è in quel momento, perché esiste. Adesso maturando un po' negli anni ho capito che veramente il muro ha una grande responsabilità, è una voce diretta al popolo. Per lo stesso motivo le pubblicità, i manifesti si fanno fuori piuttosto che dentro dei musei. La street art ha questo potere di regalare forme d'arte più o meno gradevoli, poi anche una questione di gusto personale a tutti, senza preoccuparsi che ci sia di fronte. Mi piacciono quelle formule lì dove non per forza il messaggio deve essere visto, capito. Già osservare un'immagine ti dà rilassatezza, questo mi basta. Il mio processo creativo avviene di notte, quando si tratta di creare un progetto, un disegno, aspetto che fuori ci sia il silenzio più assoluto, quindi mi dà anche sentirmi un po' solo la notte, mi dà modo di poter ascoltarmi davvero. Sì, metto un po' di musica, direi un bicchiere di vino ma non bevo, quindi mi accontento della matita e del foglio. Sì, metto un po' di musica, direi un po' di musica, direi un po' di musica.